Un organismo di partecipazione con funzioni propositive, consultive e di studio per l'elaborazione di azioni, proposte, progetti e politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche, connesse con il settore del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, ma anche delle professioni. Sta per nascere ad Ariano Irpino la consulta delle attività produttive. Ieri pomeriggio a Palazzo di Città un primo incontro su impulso del vice sindaco Laura Cervinaro, coadiuvata dal consigliere di maggioranza Carmine Grasso con i rappresentanti delle associazioni di categoria per presentare l'iniziativa e valutare il regolamento da portare in Consiglio Comunale per l'approvazione. In una fase successiva sarà nominato un presidente di vari organi della consulta. Sarà un incarico da svolgere con totale dedizione civica. Ai componenti degli organi della consulta non sarà infatti attribuito alcun gettone di presenza nel rimborso spese per la partecipazione alle sedute, non trattandosi di commissione consigliare o comunale prevista per legge. Abbiamo recepito alcuni suggerimenti da parte delle associazioni di categoria ad integrazione della bozza di regolamento, spiega il vice sindaco con delega le attività produttive Cervinaro. Ho percepito un clima molto favorevole e collaborativo. Mi auguro che questa consulta possa dare un contributo importante in termini soprattutto di proposte e progettualità ed anche per ricercare finanziamenti. Non sarà chiamata a risolvere i problemi spiccioli del quotidiano ma avrà una valenza molto più alta, finalizzata a valorizzare risorse e peculiarità e quindi un prodotto specifico a un settore, presenti sul territorio in maniera coordinata raccordando le varie associazioni e le istituzioni locali per una migliore fruizione dell'offerta globale.